2012, sono un tifoso della Fiorentina da sempre, non sono uno storico, sono un appassionato, decido di scrivere un libro sulla Fiorentina. Non sapendo da che parte cominciare, parto da me stesso e dico cosa posso raccontare? Posso raccontare quelli che per me sono gli eroi della Fiorentina e allora cerco le stelle, le cerco un po' dappertutto, le cerco fra i giornalisti, fra i personaggi famosi che hanno tifato e tifano Fiorentina, fra gli amici, le cerco per Firenze in generale. Ne viene fuori praticamente un mega tweet di 140 caratteri, che sono 140 interviste, che per me è veramente la mia soggettiva, è il mio film della Fiorentina ed è un'esperienza che so che ha emozionato me e che ha emozionato i lettori. È un firmamento, le stelle sono soggettive, ognuno ci vede a quello che vuole, ne mancherà qualcuna, ce ne sono tante e per me questa è veramente stata un'esperienza molto molto bella che devo dire, consiglio la lettura, perché no?